Musica Telespettatori di Sella TV, buonasera e bentornati ad un nuovo appuntamento con l'informazione, quella di venerdì 23 febbraio 2024. Andiamo a vedere insieme i titoli con le principali notizie del giorno. Si infiamma la corsa a Palazzo Frizzoni, Gori su Pezzotta, è un restauratore? La risposta, voglio cancellare certi errori di questi dieci anni. Bergamo, ragazza di 29 anni investita in via Broseta da un'automobile sulle strisce pedonali, è grave. Delitto Campa, confermati 23 anni di condanna per l'ex fidanzato della figlia. Il divorzio Ferragni, Fedez, dilaga sui media, il parere infastidito dei bergamaschi. Atalanta agli ottavi di Europa Liga ancora lo sport in Lisbona, domenica sera intanto il Milan in campionato. Apriamo il nostro notiziario con la politica perché la corsa a Palazzo Frizzoni, ovvero al sindaco di Bergamo, che succederà a Giorgio Gori entra davvero nel vivo. Lo stesso Gori ha acceso la scintilla attaccando Pezzotta, il quale ha risposto per le rime. Si infiamma la corsa a Palazzo Frizzoni. La campagna elettorale che porterà all'elezione del prossimo sindaco di Bergamo, fino ad ora tutto sommato giocata su toni pacati, si è accesa tra giovedì sera e venerdì mattina. Ad accendere la miccia è stato il sindaco attuale, Giorgio Gori, che nel corso della cena organizzata da Elena Carnevali con 200 sostenitori, ha accusato il candidato sindaco del centrodestra, Andrea Pezzotta, di essere un restauratore che vuole cancellare gli ultimi dieci anni di amministrazione. Un tema ripreso dalla stessa Carnevali, la quale ha accusato gli sfidanti di puntare ad un modello di città già proposto 15 anni fa, ma che ciò è impossibile perché Bergamo è cambiata per apertura e viva città. Pronta a poche ore di distanza la risposta di Pezzotta, il quale si dice confortato da tali attacchi perché smascherano il loro timore nei suoi confronti. Voglio cancellare la situazione di degrado assoluto in cui hanno lasciato parte della nostra città. Voglio cancellare ancora i disastri che hanno fatto in tema di viabilità. Voglio cancellare le assurdità che hanno fatto nel campo urbanistico. La Montelungo ancora abbandonata a se stessa, la distruzione del vecchio palazzetto dello sport ancora prima di incominciare a costruire quello nuovo. Infine la risposta dialettica che tiene viva la fiamma della sfida. Pezzotta si rivolge agli elettori invitandoli, ironicamente, ad un solo voto nel caso in cui vogliono mantenere gli errori fatti dall'amministrazione Gori. Avete solo una strada da percorrere. Continuate a votare i nipotini di Gori. La cronaca adesso è stata ricoverata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Una ragazza di 29 anni che è stata investita da un'automobile questo pomeriggio mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Brusetta Bergamo all'altezza del civico 73, lo vedete accanto a me nella fotografia. Nell'impatto è stata sbalzata per circa 10 metri riportando un trauma cranico e delle ferite alle gambe. Al volante dell'auto una Polo Volkswagen, una donna di circa 90 anni, residente in città. L'incidente è avvenuto a pochi metri di distanza da dove nel maggio del 2023 Andrea Dallara morì, urtato da un'auto mentre era a bordo della sua motocicletta. Ancora cronaca, la giudiziaria con il delitto Campa è arrivata la conferma dei 23 anni di condanna per l'omicida. Luca Cavadini. La Corte d'Assisi d'Appello di Brescia ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per Amadi El Makaoui, per tutti Luca. Fu proprio il 24enne, ex fidanzato della figlia della vittima, a prendere a martellate l'imprenditore 56enne Ansemmo Campa nella sua abitazione di Grumello del Monte. Un diverbio nato per il diniego del Campa a restituire 500 dei 6.000 euro che il ragazzo ha sempre detto di aver pagato per l'acquisto di una Clio rossa poi restituita. Diverbio che è sfociato nella violenta aggressione che l'ha portata ad uccidere. La Corte ha confermato le aggravanti giudicati in primo grado. Il bisogno di soldi per giocare d'azzardo e per l'acquisto di cocaina non può essere proporzionale all'omicidio commesso. E anche il fatto che Amadi abbia continuato a ripetere che il Campa fosse per lui un secondo padre non ha fatto che avvalorare la gravità del reato compiuto. La Corte d'Assise ha disposto che il 24enne possa intraprendere il percorso di giustizia riparativa presso un centro specializzato di Milano nonostante il no secco di tutti i familiari del Campa a partecipare attivamente a questo processo di riconciliazione. Nessuno sconto di pena ma il tentativo di una mediazione parallelo alla detenzione tra chi ha subito il reato e chi l'ha commesso. Teniamo aperta la pagina di cronaca giudiziaria ma ci spostiamo a Osio dove il processo per i bambini rimasti ustionati all'asilo continua. Roberto Tornicelli, 42enne di Osio Sopra sarà giudicato con rito abbreviato il 16 aprile una formula processuale che gli garantirà lo scolto di un terzo dell'eventuale pena. È accusato di aver introdotto all'interno dell'asilo San Zeno un contenitore di biotanol. Maggio 2022 dopo aver allestito un bracere insieme ad altri genitori il liquido infiammabile è stato utilizzato per accendere il fuoco che sarebbe servito per abbrustolire dei dolcetti. Marshmallow per una piccola festicciola dopo una giornata di divertimento per i bambini dell'asilo che non c'è mai stata e si è trasformata in tragedia. Una fiammata ha sconvolto la vita di Alessandro ed Elisa allora solo 4 anni. Per la piccola lesioni di secondo e terzo grado sull'85% del corpo e una lunga serie di interventi non ancora finiti presso l'ospedale specializzato Buzzi di Milano. La novità messa dal giudice è il coinvolgimento come responsabili civili della compagnia assicurativa dei responsabili della scuola materna e della diocesi di Bergamo che formalmente ne ha la gestione. Se ci saranno risarcimento dovranno concorrere insieme agli imputati. Altri due padri rimasti lievemente ustionati dall'incidente hanno ritirato la Costituzione come parte civile. Oltre a tornicelli saranno imputate per rispondere di lesioni aggravate la maestra Monica Valsecchi 48 anni di Bergamo e la coordinatrice didattica Simonetta Nava 59 anni di Osio Sopra che secondo l'accusa erano a conoscenza dell'intenzione di allestire il bracere e non vigilarono adeguatamente gli allievi oltre a permettere azioni di per sé molto pericolose. Non hanno chiesto il rito abbreviato ed entreranno nel processo il 18 giugno quando la Corte si esprimerà sull'eventuale rinvio a giudizio. Parliamo adesso di un tema purtroppo sempre attuale nella nostra provincia quello delle frane che avvengono soprattutto in montagna i metodi per prevenirle ci sono ma la situazione è davvero fragile. Il territorio bergamasco è fragile e le frane sono uno spauracchio continuo lo sa bene ARPA e lo sanno bene i geologi che hanno reso noti alcuni dati allarmanti sulla situazione nella Bergamasca. A Bergamo le frane sono poco più di 26.000 avvenute per lo più nelle zone montane alcune a scorrimento cosiddetto veloce altre a movimento lento. Situazione costantemente sotto controllo grazie a strumenti d'avanguardia. Vengono monitorate costantemente tutti i giorni 24 ore al giorno attraverso dei sistemi dei sensori che sono automatici questo vuol dire che noi con 11 tecnici siamo in grado di monitorare costantemente tutte queste frane in quanto ricevono costantemente dei segnali da parte di questi sensori in termini di slittamento di quello che potrebbe essere la massa. Sotto la lente di ingrandimento resta sempre la frana di Tavernola che presenta un volume di qualche milione di metri cubi di materiale ed è stato oggetto di un recente progetto di mitigazione del dissesto insieme a Regione Lombardia. Complicata e fragile anche la situazione ad Ossena con una frana che coinvolge una superficie di circa 20 ettari emette a repentaglio un'area fortemente urbanizzata. Cosa fare per arginare il più possibile i rischi di frane che mettano a repentaglio la sicurezza dei cittadini? Quello della sensibilizzazione lo stiamo facendo con una serie di eventi formativi con anche l'informazione pubblica che è finalizzata a sensibilizzare la popolazione dove è vero che parliamo di numeri preoccupanti tuttavia grazie anche alle conoscenze scientifiche e le competenze soprattutto anche del geologo possiamo aiutare e contribuire a mitigare questo rischio. Restiamo in qualche modo in montagna perché è tornata la neve e tanta neve sopra i mille metri nelle nostre valli questa notte ma soprattutto nella giornata di oggi sia in Val Seriana che in Val Brembana davvero tanti fiocchi per gli amanti di questo bellissimo fenomeno che ci fa ritornare un po' in inverno dopo le alte temperature che si sono registrate nei giorni scorsi. Le immagini che vedete arrivano dalle principali località sciistiche quindi da Fopolo dal Monte Pora dagli spiazzi di Gromo e anche ovviamente dagli altri paesi di montagna. Il soccorso alpino però si è affrettato oggi ad emanare una nota nella quale mette in guardia gli escursionisti sul rischio valanghe che a questo punto diventa davvero importante sia per la grande quantità di neve cadute che probabilmente continuerà a cadere anche nelle prossime ore che per il rischio che poi le temperature tornino alte come quelle dei giorni scorsi e diano luogo appunto ai fenomeni di valanghe sempre assolutamente molto rischiosi. Cambiamo decisamente argomento. C'è un tema che sta tenendo banco sui media italiani ed è quello del presunto divorzio tra Chiara Ferrani e il marito Fedez. una eco-mediatica che non è piaciuta a tutti e noi siamo andati a chiedere ai bergamaschi che cosa ne pensino. Per la serie Le disgrazie non vengono mai sole Chiara Ferrani dopo l'inciampo su panettoni biscotti e uova di Pasqua si trova ora a dover fare i conti con la presunta fine del suo matrimonio. Le indagini giudiziarie avrebbero creato tensioni e litigi nella coppia mettendo a dura prova il rapporto litigi che avrebbero portato il rapper a lasciare casa. La caduta rovinosa della regina e delle influencer fa audience la facciata di una vita perfetta con standard altissimi e raggiungibili fatta di lustrini e paillettes e raccontata tramite social sembra stia crollando sotto i duri colpi inferti dalla vita reale. Nonostante la fuga di followers e sponsor la forza comunicativa e di influenza della Ferrani non perde il suo potere nemmeno a seguito delle vicende giudiziarie che da due mesi la vedono coinvolta. L'argomento appassiona il pubblico e tiene banco su media e giornali che spesso dedicano la prima pagina alle vicende Ferrani. Visto a tutti i giornali e anche i media diciamo riportano la notizia sicuramente si segue. Il fatto che Fedez e la Ferrani si siano messi in mostra naturalmente è anche quasi normale e fisiologico che la gente si interessi alle loro cose. C'è chi però della crisi Ferragnez non importa poi molto. Prima di tutto non mi interessa granché e credo che sia in realtà una finta per svicolare dai guai giudiziari di Ferragni. Secondo me si rimetteranno insieme. L'ultimo dei miei problemi è la separazione di Fedez e della Ferragni perché con tutti i problemi che ci sono questo proprio mi scivola. I sindacati adesso l'attività della CISL che ha raggiunto e superato quota 124 mila tesserati. 2022 la CISL di Bergamo contava 124 mila 124 iscritti. Avanti un anno è il sindacato cresce con 1100 iscrizioni in più soprattutto nel settore della logistica e delle costruzioni. Anche la differenza tra iscritti attivi e iscritti pensionati si fa più accentuata con la bilancia che pende sempre di più a favore dei primi. la CISL a Bergamo si conferma una struttura il primo sindacato con 124 mila iscritti aumenta di 1000 iscritti a livello nazionale aumentiamo di 53 mila iscritti quindi vuol dire che come organizzazione siamo attenti a quelle che sono le nuove esigenze e i nostri servizi che si rilevano i primi ci andiamo a vedere anche a livello territoriale rispetto ad altre associazioni che sono presenti sul territorio. Tanti successi portati a casa ma non si nascondono i problemi. Mettiamo in campo servizi stiamo facendo per esempio fatica per quanto riguarda la nostra associazione degli immigrati abbiamo delle persone che vorrebbero lavorare abbiamo delle aziende che li assumerebbero la prefettura non ha personale che riesce a svolgere le pratiche e c'è un'assurdità di persone che hanno un posto di lavoro che non riescono ad andare a lavorare perché non si riescono a sistemare le questioni per noi si soggiorno Abbiamo sentito calano gli anziani iscritti al sindacato ma aumentano quelli che vivono in città e provincia aumentano anche i bisogni di saperci fare con la tecnologia allora ci sono i giovani studenti che si mettono proprio a disposizione degli anziani per aiutarli con i dispositivi tecnologici Silvia Valenti potrebbero essere i loro nipoti e in fondo è un po' come se lo fossero perché molti dei frequentatori della CTE di Carnovali che partecipano al progetto di avvicinamento alla tecnologia ammettono che ormai ai propri parenti non osano più chiedere aiuto con i propri telefonini e allora ci pensano gli studenti dell'istituto Paleocapa che hanno attivato il laboratorio di digitalizzazione per gli over 65 per spiegare come funzionano smartphone tablet e siti web un momento di formazione e confronto generazionale avere i rapporti non so con la banca spedire mail voglio essere indipendente appunto per non dipendere da mia figlia perché non oso più chiedere mi arrangio la solita risposta è mamma sbanetta anche tu come me l'ultima diciamo soddisfazione è stata quella di scaricare delle app da sola senza dipendere da nessuno faccio fatica e ho bisogno sempre di rivolgermi agli altri quindi non so per scaricare un'app qualsiasi operazione bisogna farla online anche se questa è una difficoltà quindi però bisogna adeguarsi quindi alla nuova realtà tecnologica crediamo sia molto importante che anche le persone più anziane abbiano accesso al mondo di internet accesso a queste nuove tecnologie che sono fondamentali per chi non ha dimestichezza con speed app firma digitale anche una semplice ricetta elettronica emessa dal proprio medico curante diventa uno scoglio e poi ci sono i messaggi truffa e i siti di phishing dai quali difendersi una giungla quella di internet che crea ansia ormai se dobbiamo fare una ricetta richiedere qualcosa eccetera dobbiamo impararlo per forza perché ormai siamo costretti l'interfaccia delle applicazioni risulta un po' complessa non sanno ambientarsi nel sistema operativo dello smartphone ci sono persone malintenzionate che mandano notifiche che sono mirate appunto a rubare dati a Gandino adesso perché arrivano tre giorni importanti e torna a risplendere la raggera del triduo da sabato 24 a lunedì 26 febbraio torna a splendere a Gandino la maestosa raggera del triduo capolavoro settecentesco realizzato dalla bottega dei maestri intarsiatori del caniana che è simbolo di devozione religiosa e ingegno artistico durante le celebrazioni delle giornate quaresimali dedicate ai defunti l'enorme incastellatura risalente a fine 1700 che raffigura il Santissimo coronato dai raggi del sole e avvolto da un enorme drappo cremisi simbolo della tradizione tessile della Val Gandino si ergerà dietro l'altare maggiore della basilica suo il compito di illuminare le celebrazioni grazie alle sue 116 candele che si riflettono nei vetri policromi di Murano le celebrazioni cominceranno sabato 24 febbraio con l'incontro delle confraternite della Val Gandino presso il convento delle Orsoline per un momento di preghiera seguirà il corteo dei confratelli in divisa verso la basilica e la celebrazione solenne della messa davanti alla raggera le celebrazioni animate dalle riflessioni di Don Gianluca Marchetti sotto segretario della conferenza episcopale italiana si protrarranno fino a lunedì 26 febbraio domenica e lunedì i momenti di preghiera si accompagneranno ad un ricco programma musicale nei giorni del triduo il museo della basilica sarà aperto per visite guidate ci fermiamo piccola pausa pubblicitaria e poi torniamo con un'ampia seconda parte dedicata allo sport seconda parte del nostro notiziario che apriamo con l'Atalanta oggi si sono svolte a Nioni i sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League bene sarà ancora lo Sporting Lisbona l'avversario dei nero-azzurri appunto nel turno ad eliminazione diretta della competizione europea una sorta di rivincita dopo il doppio confronto avvenuto ai gironi con i nero-azzurri che si imposero a Lisbona e pareggiarono a Legge with Stadium i portoghesi hanno eliminato i sedicesimi gli svizzeri dello Young Boys 3-1 in Svizzera e 1-1 nel ritorno giocato ieri la partita di andata si disputerà martedì 5 marzo alle 18.45 e non giovedì 7 come tutte le altre perché in concomitanza giocherà anche il Benfica all'altra squadra di Lisbona ritorno invece in programma a Bergamo il 14 marzo con orario da stabilire sarà le 18.45 oppure le 21 per questo cambia anche il calendario di Serie A al momento è previsto che l'Atalanta giochi contro il Bologna domenica 3 marzo alle 18 due giorni prima della gara d'andata di Europa League con ogni probabilità però il match sarà anticipato a sabato 2 marzo con orario da definire probabilmente lo sperano ovviamente Gasperini e tutti i giocatori si disputerà alle 15 per avere più tempo possibile per preparare la sfida e la trasferta in Portogallo e a proposito di Atalanta di trasferte di Europa e di campionato noi ci affidiamo al nostro Patrizio Romano che ci aiuta credo ad approfondire ulteriormente questo sorteggio ma ci proietta soprattutto nella trasferta di domenica sera a San Siro ciao Patrizio grazie Federico ben ritrovati nello studio di Sella De Anteprima noi andremo in onda alle 20 ricordo anche la replica alle 23.30 ma dato che ci sono voglio ricordare anche l'altro appuntamento dedicato al calcio di Serie A al grande calcio alle 22 con poker d'assi con replica a mezzanotte per quanto riguarda Sella De Anteprima ovviamente fare i puntati su quello che è stato il sorteggio quotidiano in Europa League sorteggiati gli ottavi di finale a Nyon l'Atalanta che ripesca ancora una volta lo Sporting di Lisbona già affrontato nella fase a gironi di questa edizione e peraltro già affrontato anche in Coppa delle Coppe 87-88 nella Coppa delle Coppe 63-64 sarà rispettivamente l'ottavo e il nono incrocio europeo tra Atalanta e Sporting di Lisbona avete visto anche gli altri abbinamenti con il Milan che se la vedrà con lo Slavia Praga con la Roma che se la vedrà con il Brighton di De Zerbi ecco questo è il quadro completo andiamo a vedere quelle che invece potrebbero essere le formazioni in campo del big match di domenica sera a San Siro c'è Milan Atalanta signore e signori partita fondamentale importantissima anche per un piazzamento in zona Champions League per l'Atalanta carne secchi tra i pali Scalvini Gym City Colasinac ci aspettiamo questo 11 Olm Deron Ederson Ruggeri con Commeiners a sostegno di De Ketelar e di Miranciuk torna a disposizione Lukman staremo a vedere quali saranno poi le scelte di Gasperini diamo lo sguardo anche a quello che potrebbe essere l'11 del Milan Milan che sarà magari un po' stanco che ha dovuto giocare anche i playoff di Europa League ha perso ieri a Rennes per 3-2 ha perso anche nel turno precedente il campionato 4-2 a Monza Mignan tra i pali Florenzi Kier Gabier Hernandez in difesa Adli Reinders a centrocampo Pulisic Loftusic Leao a sostegno di Giroud tornando al discorso di Europa League c'è una grana che riguarda la data perché ci sono due formazioni di Lisbona che dovrebbero ma non sarà così giocare lo stesso giorno il Benfica e lo Sporting di Lisbona che accadrà l'ha già fatto l'ha già deciso l'UEFA lo Sporting di Lisbona anticiperà il proprio impegno contro l'Atalanta martedì 5 marzo quindi necessariamente dovrà cambiare qualcosa all'interno del calendario di Serie A è presumibile che possa essere anticipato l'impegno contro il Bologna attualmente scalettato per domenica 3 marzo alle 18 possa essere anticipato al sabato pomeriggio a sabato 2 marzo ma attendiamo l'ufficialità di tutto ciò perché un rinvio pare molto improbabile proprio perché poi il calendario è ingolfato tra impegni di Europa League impegni di campionato e impegni per quanto riguarda l'Atalanta di Coppa Italia è davvero tutto la linea che torna allo studio di Sera TV News grazie grazie Patrizio noi continuiamo con le notizie andiamo in Serie C per parlare dell'Atalanta Under 23 che dopo il pareggio interno infrasettimanale contro il Renate sfida lunedì sera alle 20.45 il Legnago per il 28esimo turno di Serie C girone A sfida che giocherà in trasferta partita ad alta classifica dal momento che le due squadre sono separate soltanto da 5 punti con i nerazzurri avanti e stabilmente in zona playoff attenzione però perché il Legnago viene da 8 risultati utili consecutivi l'Albino Leffe stesso girone stessa categoria scende in campo invece domani ore 18.30 sul campo dell'Alessandria fanalino di coda del campionato sfida comunque tutta da giocare perché i blu celeste che navigano centro classifica spesso non hanno raccolto quanto sperato con le cosiddette piccole del girone gli uomini di Lopez sono riduci da due sconfitte due pareggi e una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato quindi il volley sfida quasi impossibile per il volley Bergamo che farà visita a Conegliano domenica alle 17 nel ventotesimo turno di Serie A1 femminile di volley Bergamo è sempre terzo ultimo in classifica con 15 punti mentre le Venete non conoscono rivali e viaggiano tranquillamente in vetta alla classifica andiamo a vedere adesso che tempo farà Bergamo e provincia nel weekend ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo ci atteni un contesto variabile per questo weekend in Lombardia infatti nella giornata di sabato avremo delle precipitazioni principalmente sui monti con quota neve intorno ai 700-800 metri precipitazioni che raggiungeranno anche le zone di pianura nel pomeriggio ma comunque in pianura non mancheranno anche delle schiarite per la giornata di domenica contesto ancora variabile con molte nubi precipitazioni non solo sui monti ma anche sulle pianure centro-occidentali in dettaglio sulla provincia di Bergamo avremo molta nuvolosità per la giornata di sabato con delle piogge e dei rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane temperature fino ai 12-13 gradi valori che saranno in lieve diminuzione per quanto riguarda la giornata di domenica che sarà molto nuvolosa con ancora la possibilità di deboli precipitazioni nel corso della giornata precipitazioni che continueranno ad interessare la provincia almeno fino alla giornata di martedì con temperature che saranno in lieve flessione tutti i dettagli come sempre scaricando la nuova app di Trebi Meteo è tutto io mi fermo qui era l'ultima notizia quella del meteo ma vi invito a restare su Seila TV perché adesso arriva Patrizio Romano con anteprima Seila Dea la prossima notizia Grazie.